E' stato un weekend caratterizzato da un tempo incerto, quello appena trascorso. In alcuni paesi pedemontani si sono registrate anche delle forti raffiche di vento, provocando la caduta di alberi, alcuni finiti sulle linee elettriche come a Randazzo o a Mister Bianco, dove nella notte fra sabato e domenica una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nella località di Poggio Lupo per rimuovere dalla strada un albero che ostruiva il tratto della corsia. Fortunatamente la situazione è ritornata quasi subito alla normalità senza gravi conseguenze. E restiamo sempre a Mister Bianco, dove questa sera nella sede della Conf Commercio si terrà un incontro sulla legge numero 3 del 2012 riguardante il sovraindebitamento. Tra i presenti interverrà il magistrato Marisa Cagnino, presidente della sesta sezione civile del Tribunale di Catania. Saranno illustrate le modalità previste dalla legge per favorire commercianti, artigiani e le piccole imprese e famiglie per ottenere riduzioni sulle esposizioni debitorie.